Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con il Morecambe, con i nostri gamberetti alla conquista del mondo. Signori, prima di partire dal video vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che è data a questa serie. Vi ricordo di seguirmi su Instagram dove tramite le stories mi trovate come Maullo941, fondamentale, se no dici come cazzo lo trovo io questo. E dove tramite le stories vi informo sulla programmazione dei video che usciranno sul canale e sulle live che facciamo sia su questa che sull'altra piattaforma, quella viola. Perché facciamo sempre due live al giorno, una da quel lato alle 18 e una da questo lato alle 21. Quindi scrivetevelo, segnatevelo e così potete partecipare se vi va voglia di giocare. Detto bene signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Ok signori, noi siamo alla partita, non so che cazzarò di partita, forse la terza partita di campionato contro il Walsall. Allora, la formazione diciamo che è questa, non ho grosse modifiche da andare a fare perché forse potremmo mettere giardino sulla sinistra. Dove sta il giardino? Mi sono perso il giardino. Dove sta il giardino signori? Scusatemi, dove è giardino? Giardino, ah giardino è morto praticamente, non ce la fa neanche alzarsi dal letto, quindi va bene così. Vase là, perché vase là è meno uno? Difesa meno due, questo non lo vuole fare il difensore, io non capisco che problemi abbia questo, va bene comunque, come dici tu. Stati lì, comunque sono questi i nostri titolari signori, quindi non perdiamo tempo e scendiamo in campo, incrociamo tutto l'incrociabile, sperando di riuscire a... no, è la quarta partita, la quarta partita di campionato, ho visto adesso velocemente la classifica, siamo in casa al Globo Arena contro il Walsall che cefamo signori, aia, 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 perdiamo 2-0, mamma mia, mamma mia, valutazioni 6-6-5-5-5-5-5, mamma mia, 2-0 è pesante, soprattutto in casa, 2-0 in casa è pesante signori, aia, 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 stiamo partendo col piede sbagliato, io l'unica cosa che mi dà fastidio rispetto all'anno scorso, che quanto meno l'anno scorso io davo un piano di crescita, nel senso prendevo i giovani, vedevo che avevano dell'ottimo potenziale e allenavo quelli che crescevano di brutto, la squadra che dovevo sentire è stata Alex Canyon, chi è Alex Canyon? Alex Canyon, cdc, cc, ma è sul mercato? No, non è sul mercato, però scusate, Alex Canyon, ma anche no, è un 62, rifiuta, ma anche no, non si muove Canyon, il nostro Canyon non si muove, Mister, anche se non abbiamo vinto, le sono comunque grado per avermi fatto giocare, ma vattene le nostre star, ma dovevamo vincere, Davis, questo mi viene a ringraziare perché l'ho fatto giocare anche se abbiamo perso, ma dovevamo vincere, allora, dai, quinta partita di campionato, siamo sempre più giù, dove siamo? 17esimi, con 4 punti, contro il Port Val, abbiamo una mezza squadra distrutta, signori, quindi fuori Pringles, dentro, ah, a giardino, ma devi essere carico, dai, porca miseria, questo si stanca subito, Wilding ti augurerà fuori e gioca Canyon, anche se non sa giocare lì, fuori Stockholm, dentro, sì, Mekal, Mekal, Halliden, Aladino, ecco, perfetto, Mekaliden diventa Aladino, signori, troppo complicato il nome da leggere, Aladino, Sully vanno a giocare solamente lì, Davis, Lavelle, Davis, chi può giocare? Percival, Gibson, facciamo un po' di cambi, signori, perché ho la squadra completamente distrutta, Baselà sa fare l'esterno? Baselà non sa fare l'esterno, ma ci vuoi giocare lì? Guarda che sa fare l'esterno, Baselà, guarda che non si lamenta, più 6 addirittura, ho capito, Baselà vuole fare l'esterno, e ora ti cambio di ruolo, Baselà, e mi fa l'esterno destro, allora, va bene, manteniamo così la situazione, vediamo se riusciamo a portarci a casa, quantomeno un pareggio, dico, quantomeno un pareggio contro il Port Valley, anche se la vedo difficile, perché siamo fuori casa, dico, le perdiamo in casa, le perderemo anche fuori casa, e infatti 3 a 2, perfetto, ottimo, ottimo, bella così, chi ha segnato? Pope, Pringles, poi è uscito Sullivan per Giardino, è uscito Canyon per Songo, e Goldilet Smith, l'avevamo pareggiata al 65esimo, al 75esimo l'abbiamo presa nel popò, signori, va bene, va bene, che pipponi, mamma mia, allora, Baselà ha detto che vuole fare l'esterno, no? Baselà ha detto che sa fare l'esterno, e ora ti mandiamo a fare l'esterno senza problemi, diretto, proprio così, diretto senza troppi indugi, Baselà mio, Baselà mio, un TCTD, quindi lo sa fare, ho capito, e io ora ti, piano di crescita, ora ti faccio diventare direttamente un esterno destro, un difensore destro, cambia il ruolo, mi diventi un terzino, due settimane, perfetto, terzino destro, così non rompi più le scatole e lo sai fare, quindi se io la vado di qua, ho detto piano di crescita, io non capisco se effettivamente li modifichiamo, sì, 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 sta a prendere due settimane e diventerà un terzino destro, però Baselà, così siamo coperti di, il problema è che veniamo a perdere un difensore centrale che dovremmo cercare in qualche maniera, ok, c'è questa cosa dei cambi di ruolo che è molto carina, molto carina, ma i miei non fanno più allenamenti, abbiamo giocato tre partite e non abbiamo fatto manco un allenamento, Carabao Cup, perfetto, contro l'Ul City, contro l'Ul City, va bene, cambiamo di nuovo mezza squadra, sono tutti morti, qua gioca Slow e qua torna, no, gioca nuovamente a Ladino, Sullivan è l'unico che sa giocare esterno destro, Jardin è più stanco di prima praticamente, Songo che non lo sa fare, perfetto, Kanon, ok, Pringles non abbiamo un sostituto sulla sinistra, Gibson torna Henry, Percival fuori per Davis e Lavandino fuori per nessuno, perché non c'ho all'esterno, Baselal li la facciamo giocare e fuori Alstad per Mendez, signori, li devo fare giocare tutti, se no si incacchiano, tanto in Coppa come l'anno scorso è l'ultimo dei nostri pensieri, giocarci le partite di Coppa, quindi andiamo avanti così, usciremo male, prenderemo le batoste più terribili dall'Ul City, però un domani ci prenderemo le nostre vendette, 1-1, signori e vinciamo 4-3 a rigori, ma di che cazzo non stiamo, ma è mai possibile che le partite di Coppa le vinciamo e le partite in campionato facciamo schifo, ma dai, ma non ci credo, ha sbagliato Smellwood per loro, va bene così, va bene, andiamo avanti in Coppa, nella Carabao Cup, signori, andiamo avanti alla Carabao Cup, va bene, non ho parole, non c'è in campionato facciamo schifo in Coppa, riusciamo a trovare la quadra della situazione, va bene, ok, oh, finalmente vedo un allenamento, che cosa bellissima, a ridosso della partita di campionato, proprio complimenti a chi ha organizzato questo allenamento, so che ha parecchio, che vuoi Canyon, che vuole, so che ha parecchio pensieri per la testa, ma ho pensato che fosse giusto farlo sapere che ci sono dai giocatori scontenti, sembra che il club stia andando alla deriva, alcuni ragazzi dubitano che la squadra possa vincere qualcosa questa stagione, ci aspettiamo delle assicurazioni da lei, magari qualche nuovo acquisto, so come ti senti, si risolverà tutto, non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare, si risolverà tutto, riusciremo a trovare la quadra della situazione, allenamenti, signori, allora, Davis Canyon, Le Smith di Agura, Wildin, Jardin e Songo, va bene, l'unico che non ho fatto è dribble e tira, che prenderemo una, ah no, ne ho due non fatti, allora signori, faccio questi esercizi, taglio poi e andiamo, ci vediamo appena finisco questi allenamenti, ok signori, abbiamo fatto allenamenti, abbiamo preso una A, una B e una B, dico che va bene così dai, non è andata proprio male, io spero che comunque questi allenamenti fruttino qualcosa, perché non ho visto grandi, grandi, grandi miglionamenti ora come ora, vabbè che abbiamo iniziato a malapena una settimana, quindi il campionato soprattutto, quindi vediamo, allora andiamoci a giocare l'ultima partita, dopodiché nel prossimo video, nel prossimo video si faremo un discorso di chiuderemo il mercato, che non abbiamo comprato nessuno e vedremo se arrivano dei nuovi, se gli osservatori ci portano qualcosa di interessante, allora andiamo a risistemare tutto quanto alla squadra, boh 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 boh, allora l'Aldino non lo lascerei in campo, qua mi rimettiamo, no, Stoccon e Lady Smith si hanno recuperato, quindi dai così, Stoccon e Lady Smith tornano a titolare, Sullivan, Giardino non se la sente di giocare, ha le sue cose signori, Wilding e Diago curerà, ok, Pringles mi dispiace ma se deve continuare a giocare tutte, qui va bene, in difesa rimettiamo Price che ha riposato e al posto di Lavelle, nessuno gioca Lavelle, Baselà lo facciamo giocare e al posto di Mendez gioca Halstad, aspettate ma Mellor, Mellor ha riposato, quindi leviamo Lavelle e mettiamo Baselà signori e mi dispiace, per ora se sei un difensore centrale fai il difensore centrale, quando diventerai un terzino mi farai il terzino, andiamo in campo contro il Bradford signori, siamo a casa nostra, ultima partita del video, ne abbiamo giocato i 4 ma c'è la partita di Coppa che non, non, di Coccossi, abbiamo vinto signori, Baselà, il nostro Baselà, segna il gol vittorio al 46esimo, porca miseria, vediamo un attimo le valutazioni, 9 di Sullivan e 8 e 4 di Baselà, poi 7, 7, 7, 7, 6, 8 di Stockholm, va bene, va bene, dai, 2 a 1, mi fa piacere, mi fa piacere, mi fa piacere, va bene signori, allora detto questo io per questo video mi fermo qua, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per tutto quanto e ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento, bella raga, ciao!